E poi Pizzarro vede partire Adriano, lo lancia a lungo, non c'è fuori gioco, Adri entra in aria, attenzione, Cannavaro su di lui, si ferma, è l'uomo più avanzato, deve aspettare che arriva Verón, lo serve, Seba, carica adesso a gol, 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 la bruchita, è la bruchita, è il gol dell'1-0, Seba, 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 Verón, Seba, Seba, Verón, Seba, Seba, Verón. Grande giocata, Adri, guardate di prima intenzione, la va a piazzare, l'ha piazzata, l'ha piazzata, non ha tirato, l'ha guardata e ha detto, ve la metto là, Zucchina, valla a prendere là.